Penserete che sia una cavolata direte ma com'è possibile che gioca con la skin di Spider-Man che nemmeno è uscita dai negozi oggetti Beh raga oggi vi ricrederete perchè vedrete proprio me all'interno del gioco insieme ad un altro ragazzo che è Samu che giocheremo entrambi con la skin di Spider-Man Il che è una figata perchè Fortnite non ha mai aggiunto la skin di Spider-Man ma sta per arrivare tra 10 giorni circa la skin di Deadpool e per sapere quando arriverà quella Mi raccomando raga non perdetevi l'ultimo video di Deadpool dove appunto ve lo spiego Raga mi raccomando condiviate questo video con tutti i vostri amici perchè non penso che abbiano mai visto qualcuno su Fortnite giocare con la skin di Spider-Man Iscrivetevi al canale raga perchè siamo vicini a 6 milioni e mancano tipo 6.000 iscritti non vedo l'ora Codice capo nei negozi oggetti, Instagram, Capitano Blazer Official e canale di Samu qua sotto in descrizione Detto questo let's go! Raga ci siamo siamo in lobby in questo momento e non ho la skin di Spider-Man quindi voi starete dicendo ma è un troll ci ha preso in giro eh E invece no raga perchè se io vado nel mio armadietto di Fortnite Il ballo più bello di Fortnite Una di queste skin è la vera skin di Spider-Man e no non è nemmeno questa perchè questa è ibrido non c'entra niente Oh sarà questa sarà questa sarà questa non sarà nessuna di queste perchè è questa No non me la sono iniziata porca miseria eccola qua E rega carburo la skin della season 4 però con Spider-Man che cavolo Allora a parte il fatto che la skin è una figata totale perchè è veramente qualcosa di fantastico Guardate ci sono tutti i dettagli ok l'unica cosa un po' strana è forse la faccia perchè sembra un alieno Mi raccomando iscrivetevi e detto questo andiamo in game ma prima vi è mai capitato di laggare su Fortnite oppure laggare su qualsiasi altro gioco Beh immagino di sì c'è chi non ha mai laggato però rega se vi capita spesso di laggare allora sicuramente un problema è o del vostro computer o della vostra connessione Se il problema è del vostro computer o della vostra playstation o del vostro xbox oppure del telefono insomma qualsiasi cosa C'è solo un modo per risolverlo o comprare un nuovo computer o una nuova playstation o qualcos'altro Oppure spendere molto molto meno andare sul sito boosteroid.com e giocare tramite i loro super computer Come funziona? Molto semplice Si basa sul cloud gaming quindi voi praticamente da casa giocate tramite il vostro telefono il vostro computer quello che volete Anche se avete un computer super mega brutto super mega scarso giocherete appunto tramite il loro computer quindi tramite internet voi vi collegherete il loro computer Ed è come se trasformaste il vostro computer super lento super patata in un computer super mega potente Tramite boosteroid infatti rega potete giocare a 50 giochi gratuiti e ben 150 giochi a pagamento che appunto dovrete comprare perchè dovrete utilizzare il vostro account Però se il gioco è gratuito come per esempio fornite non c'è bisogno di comprarlo Oltre a tutto rega con boosteroid non c'è nemmeno bisogno di fare gli aggiornamenti ai giochi perchè si aggiorneranno automaticamente Quindi non dovete nemmeno che ne so se ci mettete ogni volta 3 ore per fare gli aggiornamenti dei videogiochi Beh sicuramente quel computer che è super potente ha una connessione super veloce ci metterà molto meno Per provare subito boosteroid collegatevi al sito boosteroid.com E ci saranno dei pacchetti mensili oppure da 3, 6, 9, 12 mesi quindi un anno insomma come volete Potete scegliere insomma il servizio che fa per voi Rega mi raccomando boosteroid.com Samu sai qual è un piccolo problema? Che io sono partito da modi molesti e mi sono droppato perchè altrimenti cresce il gioco Devo andare allo squalo Va bene Tutto regolare insomma Sono tipo 2000 metri in volo col deltaplano Arriverò quando mancherà una persona Eh brucio per cazzo gente laggiù perchè io sono ancora proprio lascia aperto Guarda Due team! Io sono arrivato non so manco terrato e ci sono 75 persone game Ok vede un team vicino al camion de res Ma con chi sta sparando esattamente? Vabbè non capisco Ok si sta sparando tra di loro Samu te lo dico quindi nessun problema Prendiamo qua una bella cestolina e vabbè niente di che dai Eeeh Guala Samu Guala Samu Vieni qui vieni qui vieni qui Samu te lo dico Non so se andare via eh Non so se andare via o continuare a stare qua Aspettiamo un po' L'ultimo attimo qua Sì infatti bravi Stima ottima idea Mi lancio Secondo me se ci vedono verranno verso di noi Quindi facciamo veloci Ok almeno ho un R Sì però mannaggia me Un pompa Una mitraglietta Un lancioranzi leggendario Non è che chiedo tanto dai Sam un team è morto Te hai per caso un pompa qualcosa? Sì ho un pompa verde Perfetto vai Let's go Yuhuu Samu ecco lì Li vedo Li hai visti? Sono lì che sta rompendo qualcosa eh Mannaggia lui Mannaggia lui Mannaggia lui mi stava mirando Mannaggia lui mi stava mirando No lo stavo non atterrare Stai su stai su stai su C'è un pompa C'è un pompa qua sotto C'è un pompa? Sì ok mi serve Perfetto Prendo pompa Vai Sam Vola 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 La fe maia Vola Uh Ok questo è morto Ma dove cacchio è l'altro? In dentro Sì infatti mi sa anche secondo me A meno che non sia morto Combattendo con l'altro team Però non credo proprio Eccolo Eccolo sapevo che era morto Mannaggia Samu Se riesco a rampinarlo Deve Cioè deve essere proprio la cosa più bella del mondo In realtà è fioccinarlo però Perfetto non l'ha preso con un colpo Proprio uno eh Ok un colpo Ma sparare con l'aereo è un movimento È una roba più difficile D'universo Sì però C'ho sta cacchio di pedano davanti Che non vedo una mazza Mannaggia me Au Basta spararmi Ci fanno cadere Ci fanno cadere Ci fanno cadere Levati 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 E scendi 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 Io una zampa nel dubbio Mi sparano mi sparano Facciamo il spazio dell'elicottero Tento Sam Urca miseria Mamma mia che botta che fa sto coso No sono tutti fake questi Oddio quanto l'ulti c'è lì sotto Sam c'è una miniera d'oro lì sotto Ecco Lo scagnozzo Lo scagnozzo Come lo scagnozzo Ti ha ucciso lo scagnozzo Con la mitraglietta Ok Sam Non facciamoci vedere Te lì mi stai arrivando ti prego Guarda dietro Fai qualcosa Io una zampa nel dubbio eh C'è il boss dietro di me Ok E quello che ci fa Perfetto perfetto Sì sì ho capito Capito Prendo questa Sento che ti lasera Ti lasera Sì allo scar Ah è vero Hai ragione Hai ragione allo scar È vero E qui c'è il bunker Distrutto 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 Sì vabbè È morto Sam È morto Grandissimo Adesso È velocissimo Ma cosa fa sto È impressionante Mamma mia Ma rega Non l'ho manco visto che mi ha ucciso Sì ci servono cule Però adesso tanto andiamo nel bunker Non ce l'ho le bende Le bende No dobbiamo andare nel bunker assolutamente Vai let's go Let's go Ecco appunto L'american Mamma mia Due merican Oddio due merican Oddio Oddio Sam Abbiamo vinto Questa è vinta Vai 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 E questa è vinta C'è hit La safe Perfetto Aspettate Perché io prendo tutte le curette Ti hai i medikit per caso? No solo sette band Quello è un gran problema Vabbè sette band va bene Ci stanno Quello lì però potrebbe essere comunque un gran problema Veloce Verso andare in banzo Prendi il fiume Vabbè io sono sceso mezz'ora prima Sono arrivato mezz'ora dopo Fantastico Perfetto Oh Mamma mia Spare no Eh vai 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 Tenta tanto Accendi fallo Tenta non forciamosi a sparare Una jump Una jump Anche io Vieni dietro Appena finisci il fallo Zampiamo No 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 Jump tra tre Due Veloce Veloce Rompi la jump se riesci No no non ci credo Mi sta Oh Oh Mi ha distrutto Vieni qua metto un altro jump Metti un altro jump Vieni qua No non serve Non serve Non serve Sto tirando il medikit Perfetto E guardami l'altro Mannaggia Ma non ci credo Passate dietro Passate sopra Trenta 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 Dai che è morto Mi hai girato Perfetto È morto Dov'è Qua la banana Aioaioo Sono morto io Ok sono morto lever Ok l'altro Pace Spari 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 Spamma Tasca Spamma recursos Spamma 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 sempre a non finire Pronto 3 2 1 Let's go Vai 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 Mamma mia Io passa questo Soprattutto Campone Let's go Clears Mamma Che pappa Che pappa Sì Se Ecco lì Ecco lì L'ho visto Ora sul tetto Mamma mia Sono spider Perfetto Proprio Spider-Man con rampine, stra-perfetto. Bro, eccoli. Arrivano in sei fora. Arrivano in sei fora. Preso. Oh, ma quanto builda. Ti spavano di Milligan. Marco, Marco, Marco. Mamma mia, bro. Oh, Scar. Scar for you, bro. Mannaggia, tutti sti alberi qua in mezzo. Perfetto. Vado, vado, vado. E lì sopra. Niente, niente, bro. Sei di vita, sei di vita. Hai cura? Spam di Milligan. Spam di Milligan. Porca. È morto. È praticamente morto anche lui. Atenta, 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 Khan. No. Vai che è morto, vai che è morto. Quanta f***, ma quanta vita. Coppile e basta. Questo mi ha finito, questo mi ha finito. Ho preso a rampine, attento. Dai, non ho più vita. Quanto toglie la safe? Devo andare safe per forza. Bravissimo. Non vedo niente. La vedo dura, raga. La vedo stra dura. Grande Samu che si è zampato. No, in volo. Non ci credo. No. Vabbè, quarti, onesto. Peccato a me che io ti giuro che quel tizio l'ho visto in ritardo completamente. Aveva arrivato alla barrettata prima che io riuscisse in ritardo di Milligan. Altrimenti proprio questo ce la portavamo a casa. Comunque, skin di Spider-Man è qualcosa di fenomenale. Ciao, molto ringrazio tantissimo per la skin e mi raccomando, raga, collegatevi su www.boosteroid.com per guardare subito le offerte disponibili ed iniziare a giocare finalmente e decentemente a Fortnite. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanina, codice, campanile, ringrazio e oggetti, Instagram che ti avviserò ufficiale. Mi raccomando, c'urma, condividete il video con tutti i vostri amici e dagli a che sia vicino il video. Le date questo. Ciao, c'urma. Ciao, ciao.